Nella prima giornata di ritorno del Girone F di Serie D, i nerostellati riceveranno il Castelfidardo, decimo in classifica con 22 punti, esattamente 15 in più della squadra Peligna, tuttora in ultima posizione. Sul fronte mercato resta attiva la società guidata dal presidente Gianluca Pace. Dopo gli arrivi del 23enne centrocampista Giacomo Gasparotto e del 32enne attaccante bulgaro Kostadin Azzurov, ha annunciato anche l'ingaggio del difensore italo-brasiliano Igor Pupinski-Ferrera, fuori vuota classe 1997. Per lui, nella passata stagione, 20 presenze con la maglia della pianese, club toscano, anch'esso militante in Serie D. I nerostellati affronteranno il Girone di Ritorno con un organico modificato rispetto a quello di inizio campionato. Il match contro il Castelfidardo sarà un altro banco di prova per la matricola del centro-abruzzo, che dovrà vincere per avvicinare la zona play-out. Per la sfida di domani, assenti gli squalificati Magzavui e Iacobucci, l'allenatore Matteo Di Marzio potrebbe riproporre uno schieramento secondo i canoni del 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale, con un riferimento avanzato, supportato da altri due elementi alle sue spalle. Importa confermato parente, mentre il pacchetto difensivo dovrebbe essere composto da Delgizzi e Pugliagli ai lati, oltre a Bitsindu e Di Ciccio al centro. A contendersi i tre posti di centrocampo saranno Gasparotto, Pacella, Giallonardo e Vitone, con il capitano non al meglio della condizione. In avanti tutto dipenderà dai tempi del rientro in sede di Onwashi e dal completamento del tesseramento di Azzurov, per il quale sono decisive queste ultime ore. Nell'amichevole infrasettimanale provato un reparto avanzato tutto under, con Cicconi e Cone alle spalle di Bruni. Il Castelfidardo si presenterà in Valle Peligna, avendo sinora raccolto più in trasferta che in casa. Per la squadra di Roberto Vagnoni, 12 punti in esterna e 10 sul proprio campo. Se le 31 reti al passivo dei fidardensi vogliono dire terza peggior difesa del girone, una nota positiva è però rappresentata dalle 25 segnature che dicono di un Castelfidardo sempre andato in gol, tranne che alla terza giornata, in occasione dello 0-0 casalingo contro l'Olimpia agnonese. Dunque nella prima gara del 2018 i nerostellati non dovranno lasciare nulla al caso per avere la meglio su un avversario di tutto rispetto. A dirigere l'incontro sarà il signor Augusto Quattrociocchi di Latina, sostenitori peligni chiamati a raccolta. Appuntamento domani allo stadio Pallozzi di Sulmona con calcio d'inizio alle ore 14.30.